Musica Buonasera e benvenuti al consuato appuntamento con l'informazione di Televomero. Ricette false per avere rimborsi dal Sistema Sanitario Nazionale. Figurano medici di medicina generale, farmacisti e titolari di laboratorio di analisi tra le 17 persone indagate dalla Procura di Nola. Avrebbero falsificato ricette commettendo così frodi ai danni del Sistema Sanitario Nazionale. 17 le misure cautelari eseguite dagli uomini della Guardia di Finanza ai danni di medici di medicina generale, farmacisti e titolari di laboratori di analisi. Dalle indagini immergerebbe l'esistenza di due diverse associazioni a delinquere operanti nella zona di Pomigliano d'Arco, che avrebbero reso possibile una lunga serie di truffe utilizzando false prescrizioni di medicinali a favore di persone esenti dal pagamento del ticket sanitario, che poi venivano indebitamente rimborsate dall'ASL. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nola ha disposto il sequestro preventivo delle somme che costituirebbero il profitto della frode. Delle 17 persone a cui sono stati applicati provvedimenti cautelari, un medico di base è stato sottoposto agli arresti domiciliari, altri due sono stati sospesi per un anno dal pubblico servizio connesso con l'esercizio della professione medica in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, sospesi anche per un anno sette farmacisti, a due legali rappresentanti di centri diagnostici è stato notificato invece il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno, a un ex farmacista e a due informatori scientifici è stato notificato un divieto di dimora nel comune di Pomigliano d'Arco ed infine a due infermieri la sospensione per la durata di un anno dall'esercizio della professione per conto di enti pubblici e privati convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. L'uscente prefetto di Napoli Claudio Palomba traccia un bilancio del suo incarico a Napoli. Il mea culpa per la gestione dell'ordine pubblico in occasione degli scontri tra i tifosi dell'Eintracht di Francoforte e quelli del Napoli non lo fa neanche al termine del suo mandato come prefetto del capologo campano, ma si commuove e rivendica il ruolo di rilevo nella risoluzione della vertenza Whirlpool Claudio Palomba che lascia la sua città natale dopo due anni per andare a dirigere il Dipartimento degli Affari Interni. La soddisfazione più grossa è stata quella di Whirlpool perché vedere le facce, io ricordo quando mi sono insediato, non solo dei sindacalisti ma anche dei lavoratori, non c'era assolutamente fiducia nella risoluzione della questione. Aver visto una di quelle signore con il bambino l'ultima volta che ci sono stato e che ha firmato il contratto è una soddisfazione perché io lo dico, lavoro e dignità. Dietro mi venivano appunto a raccontare che alcuni non avevano il coraggio di tornare a casa e per un genitore insomma è sicuramente un momento. Questo è importante perché, ripeto, se non risolviamo i temi del lavoro a Napoli tutto diventa conseguenziale. Prima di lasciare la sua poltrona al neoprefetto Michele Di Bari, Palomba ha voluto incontrare la stampa per un suo bilancio di fine mandato. Tante le cose buone fatte, ma con la consapevolezza che l'emergenza criminalità minorile resta uno dei problemi di più difficile risoluzione. In alcune realtà è necessario veramente intervenire e intervenire a supporto delle famiglie. Palazzo crollato a Napoli, nove condanne e sette assoluzioni. Nove condanne e sette assoluzioni e questo l'esito del processo sul crollo di un palazzo che si verificò il 4 marzo del 2013 alla riviera di Chiaia di Napoli, mentre nelle immediate vicinanze dello stabile erano in corso i lavori per la realizzazione di una stazione della linea 6 della metropolitana. Ne scrivono oggi la mattina all'edizione napoletana di Repubblica. Tre imputati sono stati prosciolti in quanto deceduti nell'arco di questi dieci anni. Secondo una perizia disposta dalla Procura a determinare il crollo, che solo per puro caso non determinò delle vittime ma solo danni al palazzo, i pesanti calcinacci schiacciarono anche un'auto della Polizia Municipale dalla quale erano appena scesi gli agenti, sarebbero stati proprio i lavori in corso ad una profondità di 18 metri. Ad operare su concessioni nel Comune di Napoli fu l'ansaldo Trasporti. Regione Campania ha positivo il bilancio del Forum Technology. Cresce l'export campano sulla tecnologia, il più alto in Italia con il 55%. La regione è anche la settima nel bel paese per quanto riguarda l'incidenza sul PIL degli investimenti in ricerca e sviluppo. E quanto emerso dai risultati di uno studio sull'economia della campagna, regione all'avanguardia anche per la creazione di start-up innovative presentato durante la settima edizione del Technology Forum Campania, a cui hanno partecipato il presidente della regione Vincenzo De Luca e l'assessore all'innovazione Valeria Foscione. Noi continueremo a investire nei prossimi anni su ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e start-up. Con la nuova programmazione siamo già partiti a marzo e il primo avviso che abbiamo voluto mettere in campo era un avviso per le start-up, 30 milioni, a cui hanno partecipato circa 870 proposte. Abbiamo deliberato 42 milioni per l'equity, quindi lavoreremo a sostegno dei percorsi di accelerazione di imprese e del tech transfer non solo con gli strumenti a fondo perduto ma anche con gli strumenti di equity, quindi investire nel capitale poi delle start-up o delle PMI più promettenti e questo insomma anche per noi rappresenterà una nuova sfida. Abbiamo investito 14 milioni sui dottorati industriali innovativi e i dottorati industriali sono molto importanti perché accompagnano il placement anche di risorse molto qualificate ad entrare nel mondo del lavoro, in azienda. Quindi insomma stiamo già mettendo in campo degli strumenti che continuano a lavorare su ricerca, innovazione, valorizzazione dei talenti e così continueremo anche nei prossimi anni. Doppio ride a Napoli delle Baby Gang. Baby Gang in azione due volte nel giro di poche ore al Teatro Agusteo di Napoli. Tra schiamazze e minacce ieri sera e poi di nuovo questa mattina obiettivo la razia della beta e natalizio che fa bella mostra di sé nell'atrio del teatro nel centro di Napoli. In entrambi i casi il colpo è stato sventato ieri dall'intervento dei vigili, oggi da quello del personale dei vicini bar. I teppisti sono entrati in azione una prima volta quando mancava poco alla fine dello spettacolo delle Giotto. In 5 e 6 tutti i vestiti di nero incappucciati, voce giovanile, si sono presentati al botteghino minacciando ritorsioni all'indirizzo del personale del teatro se fossero intervenuti. Tuttavia il tentativo di far uscire l'albero è fallito perché nella fretta di far perdere le tracce col bottino l'abete si è incastrato e la presenza poco distante di alcuni vigili urbani ha consigliato di mollare la preda. La scena si è ripetuta nel pomeriggio intorno alle 13.30. Sempre i soliti giovani sono entrati all'agusteo minacciando questa volta la cassiera del teatro cui uno dei teppisti ha detto ti sparo in faccia per inibirne il tentativo di reazione. Il tentativo di trasportare fuori l'albero si è arenato all'altezza dei vicini gradini che conducono ai quartieri spagnoli a causa dell'intervento del personale dei vicini locali di bar. Un albero per Massimo Troisi, il Gambrinus, illumina il Natale di Napoli. 3, 2, 1, 3! Due borse di studio destinate ai giovani attori. La notizia arriva durante l'accensione dell'albero di Natale del Caffè Gambrinus e rischia di essere l'unica nota incoraggiante di questo periodo festivo visti i ritardi di Palazzo San Giacomo che hanno fatto saltare il protocollo d'intesa sulle luminarie con la Camera di Commercio. Con il sostegno allo studio per i giovani si aprono nuove prospettive come spiega Gianni Simioli, speaker radiofonico e diatore dell'iniziativa. Massimo era arte, era teatro, era cinema e allora grazie al maestro Peppe Mastrocinco e alla sua scuola meravigliosa regaleremo due borse di studio a due ragazzi o due ragazze che vorranno intraprendere il percorso professionale della vita attoriale. La mancata preparazione da parte del Comune e del Bando Europeo e la conseguente perdita di 2 milioni e mezzo di euro di finanziamenti si stavano traducendo in un centro senza luce ed addobbi, eventualità scongiurate in parte con l'illuminazione dell'albero per celebrare Massimo Troisi. In piazza non soltanto buon umore, musica e cultura ma chiaramente vista la location anche dolci come racconta Massimiliano Rosati imprenditore del caffè Gambrinus. Qualche anno fa Gianni Simioli e Francesco Borrelli mi hanno sollecitato su questo punto dicendo perché non creiamo un bel dolce per Troisi e abbiamo interpellato una persona cara a Troisi per sapere come potevamo chiamare il dolce ci ha consigliato gli abbracci perché a Massimo Troisi piacevano molto gli abbracci. Tra i promotori dell'evento il deputato Francesco Emilio Borrelli anche lui convinto dell'importanza di ricordare e celebrare che ha dato lustro al territorio. Nel mondo dopo la pizza che è conosciuta anche grazie al riconoscimento UNESCO per il quale molti di noi si sono battuti ci sono i grandi nomi, i grandi uomini e le grandi donne che hanno interpretato nel teatro, nella letteratura e nel cinema l'immagine migliore di noi napoletani. Ospite nel nostro telegiornale Clementina Cozzolino Presidente della Quinta Municipalità Vomero Arenella ben trovata, grazie per essere qui con noi. Sì, grazie. Allora, Natale è tempo di luci, di colori purtroppo le luminarie non sono state accese ancora nella nostra città lei ci può portare una buona notizia nonostante sia il 12 dicembre? Sì, nonostante sia il 12 dicembre mi dispiace ovviamente di non aver raggiunto quest'anno l'obiettivo di accendere le luminarie entro l'8 dicembre ma volevo rassicurare i cittadini che in questa settimana nel corso di questa settimana verranno quindi allestite finalmente le luci natalizie e soprattutto quel meraviglioso albero di Natale che l'anno scorso ha lietato dai passeggiati lo shopping vomerese verrà di nuovo posizionato nella piazza Vambitelli ovviamente è chiaro che c'è un ritardo e di questo anche da Presidente della Municipalità mi dispiace, mi scuso con i nostri concittadini dobbiamo recuperare e dobbiamo recuperare ovviamente affinché poi si arrivi preparati nei prossimi appuntamenti Assolutamente, insomma il Natale appunto è fatto di colori e anche poi di atmosfera per consentire anche ai commercianti di vendere qualcosa in più in un momento di grave crisi economica e quindi insomma anche l'occhio vuole la sua parte insomma bisogna assolutamente puntare a recuperare questo ritardo io ritengo ingiustificabile insomma da cittadina Un ritardo pesante assolutamente sì, lo dobbiamo recuperare, dobbiamo fare in modo di comunque già avviene, vengono tantissime persone perché il vomero è straordinario e abbiamo anche una serie di eventi che promuovono comunque e rendono ancora più attrattivo il territorio dell'Arenella e del vomero quindi abbiamo organizzato un grande evento a partire dal 16 dicembre, quindi sabato in piazza Van Vitelli con uno spettacolo a cui parteciperà James Enese Erminio Sinni, ci sarà anche un momento di comicità con i ditoli o voi e nel pomeriggio avvieteremo i bambini con uno spettacolo che è un musical, che è un musical di Barbie un bello spettacolo quindi abbiamo pensato sia ad un target di grandi ma anche per i piccini a partire poi dal 16 ci sarà un calendario di eventi itineranti sul territorio ritornerà lo spettacolo dei burattini del maestro Adriano Ferraiolo ritorneranno i cori gospel dei concerti nel 2-3 chiese del territorio verranno fatti dei concerti quindi c'è un calendario ricco di eventi proprio perché riteniamo che dobbiamo e supportare il commercio e regalare proprio dei momenti di spensieratezza di serenità in un Natale anche questo difficile perché c'è una crisi economica pesante e quindi i cittadini devono avere quei momenti anche di sollievo di socialità quindi recuperando degli spazi preziosi sul territorio Certo, assolutamente importante sono stati anche inaugurati i mercatini tradizionali ormai di piazza degli artisti con qualche polemica che insomma non manca mai ma è giusto che sia così perché poi dalla polemica possono nascere iniziative importanti il problema è la viabilità, traffico caotico nella zona è colpa dei mercatini avete penalizzato l'aria per i mercatini? ci faccio a capire Sì, infatti è importante fare una precisazione i mercatini a piazza degli artisti si svolgono le fiere artigianali dell'artigianato natalizio si svolgono lì ormai da tre anni questo è il terzo anno in piazza degli artisti ovviamente nei due anni precedenti non è stato necessario procedere alla semi chiusura alla parziale chiusura della piazza perché il problema dell'alberatura non si poneva invece quest'anno è arrivata in maniera dirompente la necessità di andare a modificare la viabilità della piazza perché c'è un albero importante che è la fitolacca che è un albero dichiarato monumentale quindi anche protetto che è soggetto a dei continui sbrancamenti quindi per motivi di sicurezza noi abbiamo dovuto già interdire in una prima fase che ho chiamato l'inizio di un restyling di piazza degli artisti abbiamo dovuto interdire una parte di traffico e bene abbiamo fatto perché successivamente all'interdizione parziale del transito innanzi alla fitolacca c'è stato un collasso di un grosso ramo che poteva realmente causare, cagionare dei danni notevoli ai pedoni o comunque al transito veicolare in questa seconda fase si è aperto proprio un cantiere quella alberatura sarà oggetto di un intervento di restyling di ampliamento dell'aiuola concordato con l'assessorato con il servizio verde della città è necessario per una questione proprio di sicurezza alla luce di questo poiché l'area sarà cantierizzata abbiamo ritenuto di andare a decongestionare per quanto possibile il transito su un lato di piazza degli artisti quello che va da via Recco fino alla confluenza con via Merliani quindi indipendentemente dai mercatini quindi rimarrà anche dopo i mercatini sì perché noi procederemo con questi lavori la data del cronoprogramma che verrà poi esposta in piazza perché è giusto che i cittadini conoscano anche i tempi di intervento su quell'alberatura dovrebbero terminare i lavori entro il 18 gennaio esporremo ovviamente una cartellonistica idonea per dare la dovuta informazione quindi successivamente al termine dei lavori si farà un ragionamento su quella che è stata anche perché è una sperimentazione di una viabilità che necessariamente va rimodulata rispetto ad una nuova esigenza del territorio legata ad un'alberatura che non possiamo assolutamente pensare perché sono state fatte tutte le valutazioni però è un albero particolare che rientra in una specie anche di protetta in qualche modo quindi non si può pensare di spostarlo quest'albero in un altro luogo assolutamente non si può pensare è protetta abbiamo dei vincoli da rispettare che sono imposti anche dal ministero dell'agricoltura e delle politiche forestali quindi ovviamente su questo noi siamo dovuti intervenire per un adeguamento e spenderemo come municipalità dei nostri soldi dei fondi che si sono stati assegnati proprio per procedere in una riqualificazione perché io ricordo un po' prima del transennamento cos'era quella piazza con rifiuti abbandonati una una situazione di caos e di di traffico perché quella è una strada ovviamente che a seguito della chiusura all'epoca di via Luca Giordano necessariamente ha visto una confluenza di flussi di traffico notevoli quindi è sempre stata una strada particolarmente congestionata non lo diventa oggi anzi ci sono i cittadini di via Merliani che mi rappresentano che quella traversa comunque in qualche modo ha subito una riduzione di quel traffico perché poi noi dobbiamo partire dalla consapevolezza che il quadrilatero di via Luca Giordano e via Scarlatti è fortemente congestionato le auto sono troppe quindi dovremo arrivare e questo lo potremo fare solo quando finalmente il trasporto pubblico sarà all'altezza di questa sfida a realizzare quella che è la ZTL Vomero a cui questa municipalità punta ma lo possiamo fare solo con un forte supporto del centro quindi dell'assessorato di Cosenza perché abbiamo la necessità di garantire i trasporti perché poi i cittadini in qualche modo al Vomero ci dovranno arrivare beh certo insomma non si può pensare a penalizzare un quartiere quando abbiamo ancora ormai sono anni quindi la funicolare di Chiaia chiusa che è sicuramente un mezzo fondamentale per migliorare la viabilità cittadina in qualche modo i cittadini devono pur spostarsi insomma non possiamo poi impedirgli di circolare liberamente perché nel momento in cui non ci sono il trasporto il trasporto pubblico non è adeguato è necessario che io prendo il mezzo privato sia il salamoto o l'auto insomma quindi un tormentone dei residenti del quartiere Vomero e non solo è il parco Mascagna questo parco che sarebbe importante centro di aggregazione per i bambini ma non solo anche per gli anziani che vogliono passeggiare questo parco è stato parzialmente ristrutturato poi è stato chiuso adesso è oggetto di un nuovo restyling ed è chiuso molti si lamentano anche di una potatura indiscriminata degli alberi Sì e su questo mi fa piacere poter fare diciamo una riflessione la potatura degli alberi contestata da alcune associazioni da alcune mamme ovviamente da soggetti che non hanno la competenza per poter o strumenti diciamo cognitivi vitali da poter diciamo supportare quella loro tesi noi abbiamo chiesto agli uffici ovviamente tutte le perizie perché nessuno ha interesse a sopprimere il verde anzi il verde va preservato però io ricordo a tutti che noi siamo il territorio che ha visto una perdita umana a causa di un'alberatura noi siamo il territorio che ha scansato che ha scansato proprio una tragedia in via Saveri Altamura siamo il territorio in cui stamattina c'è l'intervento dei vigili del fuoco in via Mattia Preti perché un'alberatura è a rischio crollo e quindi sono intervenuti hanno chiuso la strada quindi alla luce di questi episodi noi abbiamo un verde malato che dove è possibile andiamo a recuperare ma dove non è possibile può essere causa di danni può mettere in pericolo la sicurezza sicuramente necessita di interventi drastici e ahimè nel perimetro del parco Mascagna è stato richiesto questo nel senso che prima ancora di iniziare gli interventi all'interno del parco per una questione anche di sicurezza della fruibilità degli spazi esterni perché tutto il perimetro del parco è vissuto il perimetro del parco è vissuto da persone che comunque è un luogo di socialità si ritrovano si incontrano da persone che vanno di mattina per fare jogging quindi è un perimetro che è vissuto e quindi anche quella sicurezza praticamente legata capisco che ci possono essere anche delle strumentalizzazioni perché credo che siano mi dispiace dirlo ma ovviamente avendo visionato le perizie che davano dei danni irrimediabili a quei laboratori mettevano praticamente in pericolo la sicurezza io sono sempre per la sicurezza quindi anche su Domenico Fontana siamo dovuti intervenire per un'alberatura che andava purtroppo tagliata qual è la sfida? è ripiantumarle velocemente e su questo praticamente chiederò proprio un cronoprogramma dettagliato perché poi gli alberi vanno dove è necessario perché noi non vogliamo ovviamente tagliare gli alberi però se è necessario bisogna farlo la sicurezza è fondamentale insomma d'altra parte altrimenti poi ci sarebbero gli interventi anche della prefettura laddove la sicurezza non fosse garantita per i cittadini e anche alberi purtroppo monumentali talvolta se diventano pericolosi ci vuole il coraggio di poterli abbattere perché chiaramente poi dopo insomma si grida allo scandalo perché l'albero ha fatto vittime insomma quindi è fondamentale la sicurezza però nel contempo dobbiamo cercare di restituire di spazi ai cittadini con più decoro quindi anche una città più pulita un quartiere più pulito e noi già parliamo del Vomero che è un quartiere diciamo di nicchia per così dire perché non c'è il degrado che purtroppo sta nelle altri quartieri però si può fare molto di più per quanto riguarda la pulizia giornaliera la raccolta dei cartoni adesso che praticamente si avvicinano le feste vediamo cumuli e cumuli di cartoni fuori ai negozi distanti dai negozi perché molte volte i negozianti li spostano un po' più in là e diventa veramente difficile anche passeggiare portare un passogino per una persona portatore di handicap sì la situazione igienica del territorio necessita sicuramente di un intervento importante perché a partire dal numero di operatori ecologici che noi abbiamo e voglio ricordare a tutti che abbiamo otto operatori ecologici per il quartiere del Vomero e per il quartiere della Renella per l'intera quanta popolazione? su 120 mila abitanti ma poi abbiamo un territorio che ha una forte vocazione commerciale quindi sono numeri veramente assurdi e quindi noi ci aspettiamo e mi auguro di ricevere come municipalità questo regalo per Natale perché c'era stato garantito c'era stato garantito anche un incremento di persone che sarebbero state assegnate nella nuova sede che andremo a breve a inaugurare di viaggio a cinto gigante che ospiterà proprio una parte degli operatori della SIA però io adesso ho la sede e mi auguro di poter avere il personale per poter poi occupare quei locali e fornire un servizio al territorio sui cartoni io che dire sono due mesi che segnalo che c'è una forte criticità che bisogna intervenire che quei cartoni rappresentano un ostacolo non solo perché occupano il transito sui marciapiedi sicuro ma perché anche in caso di pioggia ovviamente vanno a sporcare e ad ingolfare quindi diciamo anche il sistema di captazione delle acque meteoriche le nostre fogne vengono praticamente completamente occupate nelle caditoie diventa pericolosissimo quindi è vero che c'è una situazione d'emergenza ma proprio perché a Natale ci aspettiamo che sicuramente ci sarà una produzione di cartoni maggiori io sono preoccupata quindi ovviamente è fondamentale trovare un intervento anche a mezzo un noleggio di diato mezzi che possa praticamente tamponare questa situazione perché altrimenti rischiamo di collassare perché avremo una produzione enorme di cartoni che la municipalità non riuscirà praticamente a gestire è una situazione è realmente preoccupante la situazione è delicata quindi il mio oggi è anche un appello perché è fondamentale praticamente che a SIA ci supporti per intervenire prima gli spettacoli durante il periodo natalizio di cumulo e di cartoni che vanno praticamente ad affollare le nostre strade dello shopping ci auguriamo che possano essere scongiurati perché è un appello anche ai cittadini a cercare di smaltirli in maniera corretta insomma non è che posizioniamo questi cartoni a ogni ore del giorno e della notte indiscriminatamente cerchiamo di farlo sempre raccogliendoli in maniera tale di creare il danno minore possibile e l'invito questo anche ai commercianti naturalmente a far questo prima di salutarci brevemente ricordiamo l'appuntamento del 16 in piazza Van Vitelli sì allora il giorno 16 a partire dalle ore 18 in piazza Van Vitelli avremo un musical il musical di Barbie a seguire alle ore 21 avremo un grande spettacolo musicale con la partecipazione di James Enese ed Erminio Sinni e poi avremo un momento di comicità con i ditelo voi quindi anche un'occasione per augurare a tutti una serena un buon Natale delle serene festività e allora auguri a lei e in rappresentanza a tutti i cittadini del Vomero e chiaramente insomma ci aggiorneremo sui prossimi sviluppi del territorio grazie e arrivederci grazie è davvero tutto grazie per essere stati con noi un piacevole pomeriggio ci ritroviamo come di consueto nelle prossime edizioni di Televomero Notizie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti